Tutti i raccoglitori erano pronti con i cestelli sicuri di fare un grande bottino. Purtroppo sono rimasti delusi perché si è bloccato tutto, si è fermato con il freddo la crescita dei funghi e quindi la stagione non è ancora partita del tutto. Con il drastico calo delle temperature, quella che sembrava un'annata con una produzione da record per la raccolta dei funghi in Casentino ha subito una brusca frenata. Ci sarà così ancora un po' da attendere, ma la vallata resta comunque una delle mete favorite dai cercatori di funghi. Il Casentino per i boletus, per l'ovulo, è la zona più ricca di raccolta sia di specie che di quantità. Sperando però in un autunno leggermente più caldo che si rialzino le temperature almeno nella giornata e mentre nella notte non si abbassino così come si è avuto questo primo inizio di settembre. I primi funghi stanno nascendo anche nelle altre vallate della provincia di Arezzo. In Val Darno, nel Prato Magno, in Valtiberina, un po' in tutto, stanno nascendo dei funghi ma non abbiamo appunto quella raccolta che con le prime piogge ci stavamo aspettando. Tanti gli appassionati pronti a partire con la raccolta che però nasconde alcune insidie per chi non conosce bene i funghi. Nella retino, con l'inizio della stagione autunnale, riprende così l'attività dell'Ispettorato Micologico del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Toscana Sud-Est. Un servizio di consulenza gratuita per riconoscere le specie raccolte e l'indicazione della loro commestibilità. Alcuni piccoli accorgimenti che servono magari per favorire quello che è anche l'operato del micologo in serie di sportello sono sicuramente la modalità di trasporto del fungo, quindi utilizzare dei contenitori rigidi, preferibilmente aureati, tipo il classico cestino di raccolta. Il fungo deve essere assolutamente intero, quindi non deve essere tagliato, sminuzzato, privato di parti strutturali che sono vitali per raggiungere una determinazione quanto più prossima a quella reale, pulito, diciamo che in buono stato di conservazione, quindi dal momento della raccolta al momento dell'arrivo allo sportello magari mantenerlo in figo, una temperatura insomma adatta per la conservazione e in ultimo ma non certo più importanza cercare di portare tutto quello che è la partita o raccolta o che abbiamo ricevuto, anche perché all'interno della stessa partita funghi che magari sono morfologicamente similari, che magari condividono lo stesso abitato di crescita o lo stesso periodo di crescita possono essere talvolta opposti, di commestibilità opposta e dare anche degli imprevisti che sono da scongiurare.